All'interno del Partito Popolare Europeo la delegazione italiana ha certamente sostenuto fin dall'inizio attraverso le prime dichiarazioni di Ursula von der Leyen la sfida del Green Deal a condizione che sia una sfida per rinnovare, per migliorare i sistemi industriali, la mobilità le sfide in generale di chi da sempre vuole valorizzare il talento in Europa non deve essere l'occasione per premiare solo chi ha sbagliato